. Giorgio Manetti ha rilasciato un'intervista parecchio interessante sul magazine Diva e Donna parlando della sua vita privata, dei progetti futuri ed ovviamente del passato . Giorgio non poteva non toccare l'argomento Gemma che è da sempre stato uno tra i più succulenti sia per coloro che seguono la trasmissione, sia per coloro che non l'amano ma vogliono rimanere aggiornati sulla vita sentimentale della donna del trono omen Giorgio Manetti, attratto da Gemma per i modi ed il carattere.La domanda che si pongono in tanti è, cosa può aver trovato Giorgio in una donna come Gemma, non della sua età? Il Cavaliere racconta che ai tempi sentì di essere attratto da Gemma per i modi di fare molto raffinati ed eleganti, era alla ricerca di una donna di classe con padronanza nella dialettica, una donna di acciaio insomma Effettivamente è sempre stata molto fine ed elegante e nonostante ciò anche schietta e sincera, per queste sue caratteristiche è riuscita ad attirare l'attenzione del Cavaliere e ad iniziare una storia con lui Punto ad oggi parlando del loro passato, l'uomo non nasconde di provare un po' di emozione, ha trascorso con lei un periodo di tempo piuttosto lungo difficile da dimenticare anche perché lui non ha rancore nei suoi confronti La convivenza con la nuova fiamma e di lavoro a Mosca.Dopo tutto però ha trovato l'amore, una nuova dama ha fatto battere il suo cuore tanto da andare a convivere in un paese o in provincia di Firenze Punto il pubblico di uomini e donne si aspetta di vederlo tornare in trasmissione proprio per raccontare gli ultimi avvenimenti della sua vita e chissà che non lo ritroveremo a breve seduto sulle sedioline rosse in compagnia della nuova fidanzata Ma Gemma come potrebbe reagire? Probabilmente la prenderebbe molto male dato che siamo certi la donna provi ancora qualcosa nei suoi confronti, d'altronde lui per lei è stato il grande amore e come tutti i grandi amori è difficile da dimenticare Punto e per quanto riguarda il mondo della tv cosa ci racconta Giorgio? Fino a quando il cavaliere faceva parte del parterma stile in trasmissione, avevamo l'opportunità di vederlo su vari canali media sette non solo per ospitate Da quando l'uomo ha deciso di abbandonare la sediolina rossa non si è più fatto vedere in tv ma come no. Giorgio dichiara che la tv italiana sembra essersi improvvisamente dimenticata di Punto per fortuna però il resto del mondo lo cerca ancora come un tempo, l'uomo infatti a quanto pare partecipa a manifestazioni ed eventi legati ai matrimoni, il mese scorso ad esempio è stato impegnato nella realizzazione e partecipazione ad un matrimonio che si è svolto a mostra, lì ha partecipato come presentatore e questa per lui è stata non solo una bella occasione ma anche una grande soddisfazione .